E' oramai una consitudine trovarci qui anche la domenica. Poi c'è anche la replica verso le 23, poi anche il mattino. Anche perché vedete 137 giorni di guerra. 100, guardate c'è scritto, non sono pochi. C'è un'azione speciale, pensavo a qualcuno di 10, forse 20 giorni, 137 giorni. E c'è un andare ed un tornare. Con migliaia di morti su questo nessuno può dire nulla. Il comportamento poi del ministro degli esti di Labrov al G20 di venerdì, che si alza e se ne va perché la rappresentante tedesca parla della guerra, dimostra cosa pensano dell'Occidente in termini reali e come pensano di mettere l'Occidente con le spalle al muro. Se poi ci mettiamo anche quanto ha detto il leader per il momento della Russia, il primate, che non è la scimmia. Oddio, che dice che se l'Occidente vuole entrare in campo che ci provi, anche perché non possiamo far finta di nulla. Che l'Occidente sia in campo lo è già, con le armi che invia, con i soldi che invia, con tutto quello che sino ad oggi chiede Zelensky. E quindi di fatto non possiamo fare i finti tonti, no? Di fatto si è in guerra anche noi, una guerra guerreggiata da altri, ma siamo in guerra. Le armi le inviamo. Magari invieremo carri armati, i bolsi, però li inviamo. E quindi non possiamo non dire, ma insomma, c'è un altro dato di fatto, c'è un altro carico, ci ricatta con il gas. Ma scusate un attimo, se io vi do il gas e decido di attaccare, per impossessarmi del salotto, o almeno spero del salotto, del professor Guglielmo Cevolin, che è qui con me, possiamo aprire dunque a due. E tutti gli altri condomini non mi fanno scendere con l'assensore, non mi fanno uscire, non mi fanno andare in banca, non mi fanno qua, non mi fanno là, ma sono io che detengo in mano la chiave, affinché si possa accendere il riscaldamento, che riscaldi l'intero condominio. Non è un ricatto, è una reazione, una serie di reazioni che vanno a sommarsi a tante altre reazioni. E' ovvio, è implicito, che a attaccare è stato lui ad invadere un popolo sovrano. Però poi tutto si è accavallato. Quindi dire che ricatta, secondo me, e non lo difendo, mi pare un termine improprio. O sbaglio, professor, ce l'ho lì. Diciamo che il direttore ha messo in campo moltissime cose. Iniziamo da Lavrov, è vero che Lavrov se n'è andato, ma anche è vero che non mi pare che quel G20 sia l'esempio di un idillio dell'Occidente tutto unito contro Lavrov. E quindi è molto preoccupante in funzione dell'economia, in funzione anche delle relazioni internazionali, il fatto che abbiamo un G20 senza consenso a livello zero. Poi andiamo alle dichiarazioni di Putin, andiamo alla prospettiva della guerra. Cioè è chiaro che da quello che sta accadendo, dalle dichiarazioni anche di Putin, la prospettiva sicuramente per la Russia è quella di una guerra a lungo termine. In fondo la Russia ritiene che questa operazione speciale sia strettamente collegata alla guerra della Crimea, diciamo dal 2014 in poi. e quindi per certi versi si sentono già in guerra dal 2014 in poi i russi. Poi però hanno chiamato operazione speciale questa invasione al di là del diritto internazionale, in violazione del diritto internazionale della Ucraina. però la prospettiva verso la quale stanno andando adesso è, cioè dimostrano, almeno a parole, di non avere problemi a continuare una guerra all'infinito. Tra l'altro a chi fa più male questa guerra? Primo agli ucraini che sono il campo di battaglia, secondo all'economia dell'Europa, perché in questa guerra in Ucraina in realtà è in gioco per certi versi anche, se non forse principalmente, l'influenza sull'Europa, degli Stati Uniti, della Cina e anche della rediviva Russia, che ha tentato di ritornare, e la Russia è tornata in questo modo così brutale, cioè quello militare. Con una prospettiva a lungo termine, certo purtroppo l'impressione che si ha, così anche dall'esterno, che questo boxer russo sia difficile a tirare giù. E più a lungo va la guerra, e più sarà difficile tirarlo giù. E allora su questo, ma poi ne parleremo direi più avanti, Per me, ma scusi, e anche perché, e anche perché avere, perché io posso capire tutto, però non possiamo far finta di nulla, no? C'è un popolo che ha resistito a San Pietroburgo, o a Stalingrado, meglio, anni. Infatti questo è il paragone con Hitler, voting Hitler non si può fare, perché Hitler l'abbiamo sconfitto, arrivando a Berlino, con Putin è molto difficile che si arrivi a Mosca. Ci ha provato Napoleone, ma... E anche Hitler. Due moscerini, secondo il popolo russo. 20 erotti milioni di russi, se non uno. Poi c'è un'altra cosa da dire, secondo me, chiara, no? Mentre noi occidentali siamo abituati ad una vita, insomma, dove accendi il condizionatore ora, il riscaldamento domani, dove ti mangi il gelato, dove, insomma, vai al mare, adesso c'è il mare, mare, montagna, benissimo, giustamente. Questi qua mangiano panna e cipolla, se non vanno nel mare, mangiano panna. Al di là degli origalti, il 90% del popolo mangia panna e cipolla, quindi è abituato ai sacrifici. sacrifici a cui noi, io, il professore, magari sì, tanti sì, per la guerra, l'economia, ma tanti altri no, attenzione. Ma diciamo che... Così qua, come in altri stati europei, Diciamo che qui l'importante per una certa parte della Russia è avere un po' di caldo, perché senza il caldo lì proprio si muore. Però, dato un po' di caldo e qualcosa riesce a dare con il suo gas, effettivamente è vero che hanno dimostrato, anche su questo versante, dopo il disastro di Yeltsin, per esempio, hanno dimostrato di ripartire da zero due o tre volte le persone fisiche russe per quanto riguarda le proprie risorse. Quindi, ecco, hanno anche addestrato in questi anni nei quali, diciamo per noi, è stata il periodo di pace dopo la fine della guerra fredda, in realtà per i russi sono stati periodi di ristrutturazione dell'economia, ristrutturazione della vita di ciascuno, di ciascun russo per due o tre volte dovute alle crisi, dovute alle situazioni drammatiche nelle quali era accaduta la Russia, l'economia e così via. E quindi, ecco, su questo ci sono paragoni dai quali dobbiamo un po' di staccarci e allora ritornavo a quel discorso che stavo facendo, cioè il fatto che attenzione che quello di dire che la Russia va sconfitta, va tirata giù, va, o Putin va sostituito, sono cose molto difficili, molto lontane, molto problematiche, cioè e su questo, ma ne parleremo dopo magari quando parleremo un po' del numero di Limes, c'è Kissinger che ha detto la Russia, a maggio ha fatto tre conferenze, sono riportati i testi in Limes, nell'ultimo numero di Limes uscito ieri, sabato 9 luglio, ci sono questi testi e questi testi fanno diversi ragionamenti e un primo ragionamento è che bisogna chiudere, era a maggio questi discorsi, bisogna cercare di chiudere entro due mesi la guerra, la Russia non va combattuta ma va fatto un accordo e questo è Kissinger che non è che sia una colomba è un grande esperto di rapporti sia con la Russia che con la Cina. Sì ma Kissinger giustamente che è stato criticato 99 anni che è stato criticato possiamo dire che è una tra le menti più lucide nel confrontarsi con dittatori e non dittatori sul versante guerreggiato o su quel versante anche diplomatico possiamo dire che è stato uno tra i più diplomatici uomini che si sono dimostrati validi non solo a parole professore perché se no con la Cina ragazzi con la Cina è riuscito a ecco ma però sentite le sue parole ovviamente applicate a Taiwan ma che vanno lette anche un po' applicate all'Ucraina ma leggiamole prima applicate è tutto a cascata applichiamo a Taiwan nel momento in cui si arriverà anche a Taiwan perché prima o dopo i cinesi io sono più che sicuro perché la real politica è quella la real politica è quella che Draghi dice dittatore al buon Erdogan due giorni prima e due giorni dopo lo abbraccia chiamandolo grazie ci hai salvato insomma perché questa è la real politica diciamo che Kissinger nei confronti di Taiwan per esempio dice queste parole nel maggio del 2022 dice ma io ho avuto a che fare con la Cina ovviamente era una Cina un po' diversa da quella però era comunque una Cina ostile anche ideologicamente e pesantemente ma c'era Deng c'era Deng però però c'era sempre la questione Taiwan sì però Xi Jinping è risonato un po' alla storia di Mao Zedong se lei dà un'occhiata ha cambiato anche la Costituzione perché qua c'è una persona che ha seguito il portere operaio quando era ragazzino e insomma il libretto rosso lo so a memoria e c'è quello io ho quello originale che mi ha inviato tra l'altro scherzo scherzo io avevo direttore ogni tanto sdramatizziamo sempre ha quasi centrato ecco perché io ho chiesto a quei tempi ho fatto una letterina anche a quei tempi mi piaceva scrivere all'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese chiedendo di poter avere un libretto rosso autentico e sapevano che dovevano rispondere allora il primo libretto rosso e lo può chiedere anche ad un amico che ancora opera a livello commerciale ma in quei tempi lavorava da Ellero da Ellero alla cartoleria a Ellero dei fuochi d'artificio no io acquistai il libretto rosso io acquistai il primo libretto rosso poi chiesi all'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese di avere il libretto rosso e loro mi inviarono il libretto rosso di Mao quello originale perché quello originale ha anche un secondo libretto rosso piccolo all'interno nella tasca interna per la lotta la lotta popolare da fare all'interno della città in caso di occupazione e quel libretto che io ho con carta di riso e carta ma c'è un foglio una carta di riso con la foto di Mao Zedong e la firma di Mao Zedong e lo farò vedere perché è una rarità ci tengo e tra le altre cose lingua italiana è stampato nella Repubblica Popolare Cinese tanto per farvi capire la porterò il domenica prossima e la porto a far vedere questo per dire che Xi Jinping ha portato il tutto indietro cioè sì siamo ad una Cina diversa di Mao Zedong perché c'era la rivoluzione culturale però Deng stava modernizzando alla fine oggi pur solo sul versante dell'economia certo stiamo parlando però oggi c'è stato un piccolo ritorno a Mao Zedong sì c'è un ritorno ideologico però sentite le parole suavi di Kissinger dice allora noi già in quel periodo abbiamo preso la posizione come americani in questo modo ci abbiamo detto effettivamente non mettiamo in discussione che Taiwan sarà Cina è Cina e quindi non mettiamo in discussione l'unità della Cina però per diverse ragioni abbiamo convinto la Cina a rimanere prudente e a non è una finezza a rimanere prudente e a non realizzare le due Cine diciamo a non diciamo noi non abbiamo spinto per realizzare le due Cine e a non realizzare la Cina unica ecco se non in tempi visibili ecco questo era il ragionamento in tempi visibili cioè come dire un lunghissimo respiro un lunghissimo respiro a non entrare in conflitto con la Cina per Taiwan sostenendo però che come dire la Cina doveva avere una grande pazienza e bisognava convincere la Cina ad avere una grande pazienza cioè capite che qui siamo sul versante della punta di penna così però attraverso questo tipo di divisione diplomatica si sono fatti dei passi avanti sul versante della pace nel senso che si è rimasti è chiaro che dall'altra parte adesso perché per la Cina per la Cina in realtà le posizioni cinesi attuali su Taiwan sono molto più assertive perché hanno messo nei piani quinquennali entro dieci anni diciamo entro i prossimi piani di riuscire a realizzare al massimo entro il 2050 la unità diciamo della Cina con la conquista diciamo piena di Taiwan dall'altro lato abbiamo invece però un Putin che ha messo il piede fuori la linea no? perché come dire come se la Cina avesse già invaso Taiwan allora è chiaro che però anche qui anche qui Kissinger dice non ci conviene andare allo scontro totale non ci conviene andare allo scontro totale dobbiamo arrivare a un accordo è difficile questo è il diplomatico Kissinger che non è una colomba diciamo perché è uno che tiene la barra dritta ha tenuto la barra dritta però fa un ragionamento che per certi versi perché la realpolitik è anche stare attenti che se per andare contro l'orso russo mi distruggo le prendo se io devo fare un combattimento io non sono molto coraggioso se devo fare un incontro a box contro un peso massimo o vinco sulla velocità oppure ci rinuncio devo fare la pace divento un pagliaccio un giullare mi metto a fare la pace devo fare la pace io questo come persona fisica ovviamente gli Stati Uniti non devono fare i giullari l'Occidente non deve fare i giullari ma adesso è l'orientamento che si sta raggiungendo adesso io stavo cercando anche tra le notte il segretario di Stato americano Blinken che partecipa al G20 nelle giornate di venerdì e sabato è stato chiaro in un primo momento ha chiesto alla Cina di dichiarare ufficialmente la sua posizione in merito all'invasione dell'Ucraina anzi ha chiesto alla Cina di in qualche modo contestare criticare e contestare e criticare in politica si sa bene che cosa significa no professore l'azione cinese allo stesso tempo Blinken ha detto comunque che gli Stati Uniti d'America sperano in colloqui costruttivi con la Cina in una relazione complessa e conseguenziale come quella tra Washington e Pechino ha osservato Blinken c'è molto di cui parlare per quanto riguarda gli americani non vediamo l'ora di poter iniziare una conversazione produttiva e costruttiva qui da una parte punta il dito insomma dicendo ehi cosa fate voi state lì alla finestra dite anche voi quello che dall'altra 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 getta come un ponte ipotetico di realpolitik mi scusi no ma è così questo è anche scritto ormai nel documento del 29 giugno nel nuovo documento strategico approvato il 29 giugno a Madrid dalla Nato e cioè il fatto che ci sia una sfida strategica con la Cina che passa attraverso un tentativo di diciamo dialogo e poi se non riesce però tenendo presente i diversi punti di conflittualità economica tecnologica e anche di relazioni internazionali per i rapporti con la Russia che attualmente ci sono e quindi di su questo documento strategico si svela poi come il nemico più temuto poi a lungo termine anche per la Nato sia la Cina tanto è vero che al vertice di Madrid stranamente vertice Nato è comparsa anche il Giappone e anche la Corea Giappone che è uscito a riprendersi anzi vuole riprendersi anche lui quella leadership che aveva ante seconda guerra mondiale e qui ci sono sia la Germania sia Germania che Giappone che si stanno armando ecco e riarmando e questo è il Giappone non dimentichiamo c'è vicino una Corea del Nord che in più occasioni lanciando i vettori o i missili che cadono poi sul mar del Giappone sta creando insomma sicurezza da quelle parti però ecco riarmo il Giappone in funzione anticinese diciamo soprattutto non può dirmi non ci sono stati di buoni rapporti quando si invadono poi rimangono sempre alla fine situazioni non simpatiche sì i rapporti tesi continuano e per generazioni è quello che accadrà anche tra i russi e gli ucraini cioè questo rimarrà probabilmente per alcune generazioni ecco si ricorda quando invasano il muro tutto è una situazione che ti può che ti può perché era una potenza il Giappone una volta era una potenza oggi poi tra l'altro con questa uccisione cosa che pensi di questa ma lì ecco noi siamo nel Master in Intelligence in questo fine settimana anche oggi domenica si sono tenute lezioni del Master in Intelligence l'abbiamo fatte venerdì sabato e domenica e ieri abbiamo avuto ospite un po' l'ho sollecitato io il generale Battisti generale degli Alpini generale di corpo d'armata che ha avuto quattro missioni in Afghanistan ecco e la prima cosa che ha detto il generale Battisti è un fallimento totale dell'intelligence perché come si fa un ex premier praticamente così indifeso perché in realtà pare che poi i quattro che sono saltati addosso all'assaltatore in realtà erano disarmati e l'hanno disarmato ma l'hanno disarmato in quanto quattro guardie del corpo disarmato ma l'hanno qual era qual è stato il problema che ci sono state falle enormi falle enormi perché appunto come diceva lei i servizi e comunque le persone preposte alla difesa dell'ex premier erano disarmate prima di tutto ma dobbiamo dire anche una cosa che il 41enne è stato sopraffatto anche perché aveva un'arma artigianale costruita da lui non aveva un'arma insomma potente alla fine alla fine sembrava un mini ombrello quello che aveva in realtà pare che l'abbia costruito con le istruzioni su youtube o comunque su internet era un ex militare diciamo che il fallimento dell'intelligence è prima di tutto perché tendenzialmente l'intelligence dovrebbe prevedere queste cose ma ovviamente se come pare in questo caso è il caso invece di un pazzo mitomane nel senso che o di una persona che è entrata in difficoltà ma lui ha detto che lui racconto le idee di Abe e quindi è entrato in difficoltà anche personalmente economicamente perché è stato licenziato dalle forze armate e poi sono entrate in gioco c'è una ricerca disperata di capire le motivazioni dell'atto di questo ma queste cose non sono mai successe in Giappone ci sono anche in realtà attentati lo stesso padre di Abe aveva avuto un attentato ai tempi degli attentati negli anni del 1961 il padre di Abe era ministro è stato primo ministro una famiglia molto importante addirittura importante anche per i legami con il Giappone pre seconda guerra mondiale anche una certa dichiarazione anche problematiche però la cosa diciamo che un po' è stato sospetto negli ambienti dell'intelligence è questa cioè che lui sapesse perché che Abe facesse questo discorso in quella sede a quell'ora in quel momento non era una cosa completamente non era una cosa nota a tutti e quindi e poi avvicinarsi l'ultimo comizio lui era alle spalle e avvicinarsi così vicino infatti c'è il dubbio c'è il dubbio che ci sia stato qualche elemento facilitatore anche se diciamo anche se in Giappone io ho visto alcuni comizi non è che ci siano poliziotti o la civiltà c'è io non ho mai visto persone ridere chi stava parlando se qualcuno è lì e lo ascolta è perché è vicino ma non è che non c'è la contestazione c'è un rispetto asiatico sì appunto dico qui il fatto di questo qui con questa mascherina fosse alle spalle non è stato nessuna diciamo qui non potrebbe accadere che uno salga sul palco dove c'è Letta o c'è il sindaco di Pordenone se non è conosciuto cioè c'è un'altra vigilanza no? ecco questo sicuramente però alcuni ambienti dell'intelligence hanno posto questo problema che non ci fosse qualcuno che ha aiutato questa persona a avvicinarsi quindi sotto questo profilo un'intelligence che funziona bene avrebbe dovuto tenere sotto controllo ambienti ostili ad Abe anche perché Abe tutto sommato è ancora uno dei leader del partito più importante che fra pochissimo è a elezioni cioè ci sono le elezioni e quindi come dire è una persona che avrebbe dovuto essere un po' controllata quindi questa è la prima fase dell'intelligence poi c'è l'altra l'altra fase quella della vera propria sicurezza fisica di alcune persone fisiche che possono essere oggetto di attacco e allora anche su questo versante è probabilmente mancato qualcosa e cioè una dotazione di sicurezza più pronta ma anche in questo contesto mentre tutte le cancellerie del mondo hanno inviato diciamo telegrammi piuttosto addolorati la Cina è rimasta piuttosto fredda ha mandato non è intervenuto il premier è intervenuto il portavoce addirittura il portavoce il ministro degli esteri ha detto si vabbè una dichiarazione aveva contribuito al miglioramento delle nostre ma non mi ha dato insomma quella mentre il giornale cinese il quotidiano cinese il giornale del popolo no il giornale cinese è il Global Times ha detto attenzione adesso ci sarà una svolta a destra una svolta a destra in Giappone e questo creano poco e questo sicuramente rafforzerà la voglia di riarmarsi di avere dei servizi segreti più forti e così via e così via e quindi ci sarà anche questa probabilmente supporto ulteriore la geopolitica lei è un aspetto di geopolitica se andiamo noi ad analizzare con tutto rispetto voi sapete come la penso sull'Ucraina e su quanto sta avvenendo però che si dica che tutto l'Occidente è contro Putin andando a guardare al G20 non è proprio che tutto l'Occidente sia contro Putin punto primo punto secondo qualcuno qua insomma Boris Johnson che è stato uno tra quelli più vicini a Zelensky il più insomma è stato il primo ad andare a Kiev il primo a dire non preoccuparti ti diamo di tutto e di più insomma ha quasi tirato per la giacchetta gli altri pur non facendo parte dell'Europa è saltato Macron altro altro personaggio che insomma si è speso con Putin in presenza e in Dada via telefono non ha diciamo la maggioranza al Parlamento quindi in America direbbero è una trazoppa poi se andiamo anche a dare un'occhiata al cancelliere tedesco Schroeder letteralmente scomparso dalla ribalta ogni tanto lo vedi cioè è una situazione un po' un po' un po' così o sbaglio ma nella contrapposizione che un po' era voluta da Biden come cifra per interpretare il ruolo degli Stati Uniti nel mondo il nuovo ordine liberale degli ultimi cinque minuti in realtà le democrazie che si radunano sotto insieme agli Stati Uniti non sono molte non sono compatte e su questo anche cerca di incidere la Russia nel senso che nella contrapposizione che c'è in Ucraina in realtà uno dei fattori anche potrebbe essere decisivi potrebbe essere un pochino l'indebolimento dell'unità dell'Europa in realtà inizialmente come sappiamo non c'è stato questo anzi ha avuto l'effetto contrario l'invasione dell'Ucraina ha avuto l'effetto di compattare gli amici più stretti degli Stati Uniti però adesso con la situazione energetica con un altro aspetto sono gli attacchi o comunque la propaganda oppure il tentativo di evidenziare perché c'è un tentativo che secondo me c'è ed è fondato cioè quello di dire attenzione cari europei che i vostri interessi non sono gli interessi identici agli Stati Uniti e questo è un elemento su questo ha inciso sempre in realtà la propaganda russa poi addirittura la propaganda russa si serve anche di fake news di un appalato tecnologico per cercare di diffondere professor Cevolini possiamo dire tutto quello che vogliamo ma quando arrivano le bollette questo ottobre ci vediamo o d'ottobre purtroppo propaganda o non propaganda le bollette temo è ovvio perché lo scostamento di bilancio puoi farlo oggi puoi farlo domani puoi continuare ad aiutare mettendo i miliardi ma prima o dopo i miliardi finiscono se poi qualcuno aumenta anche i tassi di interesse questo paese comincia ad essere strangolato nel senso la situazione non è per nulla simpatica chi ha il mutuo pensiamo solo chi ha il mutuo cosa può succedere non è per nulla simpatica io capisco tutto perché bisogna insomma capire la situazione ma bisogna trovare una via d'uscita quanto prima quanto prima ecco perché qualcuno domani se la riderà avete voluto ecco sì perché su questo giocarla sulla resistenza sfidare la resistenza del pugile avversario è sbagliata in questo caso inoltre inoltre ci sono anche delle ragioni umanitarie perché il popolo ucraino è quello che subisce di più anche se bisogna stare molto attenti perché se noi andiamo a boom 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 e questi qua no trovano l'accordo con Putin e questo qua si tiene il dono e un domani le girano le scatole si va a prendere anche Stalingrad è la zona della eh no eh no questo qua gioca con come il gatto con il topo perché con la Lituania attenzione non dimentichiamo la Lituania che blocca no Stalingrad attenzione perché ha detto qualche minuto ieri poco dopo le 4 che da tempo due giorni altrimenti c'è l'intervento e lei lo sa meglio di me se interviene nella Lituania siamo alla terza guerra mondiale perché in effetti perché la Lituania fa parte della Nato e l'articolo 5 dà il via libera ai paesi che fanno parte della Nato a difendere il paese invaso ha capito? in effetti uno dei nuclei di questa guerra in Ucraina in realtà è anche l'isolamento di Kaliningrad e siccome ovviamente cioè viene chiamata in un altro modo anche la Nato Baltica siccome la Nato ha stravinto pare adesso con la fine della neutralità della Svezia e della Finlandia ecco che con le isole che sono proprio vicine sembra delle pistole puntate nei confronti di Kaliningrad ecco sappiamo da tempo lo richiamiamo qui in questa trasmissione l'importanza di Kaliningrad strategica per le bombe nucleari e per la potenza navale che è ancorata a Kaliningrad e quindi ecco che sull'IMES è uno degli obiettivi possibili che viene annunciato e quindi in questo senso verrebbe confermata l'opzione e il rischio segnalato dal direttore di Meo sarebbero proprio le tre repubbliche baltiche cioè le tre repubbliche baltiche potrebbero essere più che la Polonia più che la Polonia potrebbero essere un consiglio l'enclave di Kaliningrad che è tra Polonia e Lituania se ti tirano un missile e c'è in Polonia l'errore lei lo sa che gli errori sono la base poi di accadimenti importanti io ho già fatto un errore prima del 24 di febbraio quello di ritenere Putin un saggio stratega un saggio statista più che altro perché saggio stratega saggio statista e invece al momento diciamocela tutta nemmeno Zelensky pensava che questo qui andasse ad invadere la sua Ucraina non aveva creduto agli 007 americani oddio nemmeno io avevo creduto agli 007 americani dopo quella figura di patta che hanno fatto con l'Iraq mi scusi perché l'Iraq noi siamo andati in Iraq perché avevano detto che avevano trovato le armi di sostituzione di massa se aveva la marmellata forse quel povero Cristo era anche salvo ma lì più che i servizi era il vertice il vertice politico che ha deciso di raccontare le bugie le ha imposte le ha imposte però poi ha scaricato tutto sulla CIA sui servizi e via e sull'Iraq 007 il problema non è che loro stando in America cioè i servizi sanno fare un finto dossier hanno preso una tesi di laurea e hanno fatto il dossier delle armi di distruzione di massa da una tesi di laurea di dieci anni prima mi scusi anche questo sanno purtroppo fare i servizi ma diciamo che adesso per esempio ecco un'altra cosa che è cambiata perché noi dobbiamo sempre notare alcune cose in questa trasmissione secondo me cioè che sta cambiando tutto per esempio con il nuovo vertice dei servizi che è una donna tendenzialmente rende tutto più aperto rende tutto più in forma cerca di informare la l'opinione pubblica in maniera ecco quindi anche questi anche questi sono i cambiamenti che questa guerra ci sta ci sta portando io staremo a vedere anche perché poi entreremo nella seconda parte con le cartine per chiudere come sempre però avere ci siamo identificati di un altro paese che è sull'orlo di una crisi di nervi che è l'Italia è l'Italia è sull'orlo di una crisi di nervi perché perché chi pensava che Conte alla fine facesse un passetto indietro Conte in questo proprio preciso momento continua insomma a lanciare i suoi dardi e dice o il buon Draghi dà delle risposte certe alle mie richieste o io abbandono il posto è chiaro poi vorrò vedere come farà io vedo ancora più grave la crisi perché basta leggere i giornali di oggi tafferugli sui giornali sulla legge elettorale cioè quando si iniziano viene fuori da Limonte vengono fuori i servizi su solo 24 ore su altri giornali della prospettiva di cosa succede se si votasse oggi con l'attuale legge elettorale poi cosa succede se cambia poi cosa succede non cambierebbe nulla cosa succede se cambiamo gli sbarramenti no siamo al punto di prima nel senso che il sistema cioè la crisi non è solo Draghi Draghi Conte questa è quella di oggi ovviamente ma la crisi del sistema politico italiano gravissima gravissima qua si parla di andare al voto tutti al voto al voto sì ma con questa legge elettorale non cambierà nulla saremo a 5 anni fa perché questo insomma è il tiracampare il tiracampare poi ti accorgi alla fine che come sempre i nodi arrivano al pettine vedi oggi è la difficoltà di avere gas e petrolio e quindi dobbiamo rivolgerci anche a paesi che di democrazia per la verità ne hanno poca se non nulla e allora BK 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 BK